Oggi è un giorno nel quale il primo pensiero vorrei che andasse non a una vicenda molisana, non a una vicenda italiana. Io vengo da un giorno molto impegnativo, poi ve lo racconto, sono stato sulla Salerno Leggio Calabria, poi siamo stati a San Giuliano, abbiamo visitato e visiteremo aziende prima di tornare a Roma, ma la giornata di oggi, che peraltro per chi crede è la giornata di Sant'Anna, noi fiorentini siamo particolarmente legati a quella festa per motivi vari, per motivi storici, ma il primo pensiero va a padre Jacques Amal, che è l'88 genario parroco, o credo non più parroco, comunque di Sant'Etienne de Couvray, che è stato ucciso questa mattina, mentre celebrava la messa. Voglio dire una cosa, innanzitutto da credente, come è, credo, permesso innanzitutto il senso del dolore e per chi crede il riferimento ad altri uomini, ad altri uomini di fede uccisi durante la messa, penso a Oscar Romero, all'arcivescovo Oscar Romero ucciso il 24 marzo del 1980 e penso ad altre persone, ma anche per chi non crede più in generale e per tutta la nostra comunità, la comunità italiana, vorrei che arrivasse forte lo sdegno per ciò che è accaduto.